non pensare che tutto sia finito o meglio pensa all'infinito solo così in quel breve lasso di tempo in quell'istante sapremo che due anime gemelle si saranno incontrate e in quel preciso istante in quel preciso momento ci incontreremo e saremo felici insieme per la vita mano nella mano come un sogno agli occhi aperti mai svegliarsi